Stefano, qui al Web Economy Festival di Cesena, si è intervenuto su distruzioni creativa e paradigma schumpeteriano. Riguardo i job garantie proposti da Modern Money Theory, se essi venissero implementati dal governo nella situazione italiana, secondo te questi job garantie implementati dal governo non limiterebbero il fattore innovativo dei servizi offerti e volendo prendere uno spunto dalla teoria libertaria? Non sarebbe forse meglio far gestire questi job garantie al settore privato, magari all'impresa sociale, più che direttamente dal governo? La domanda è molto difficile. Mi permetto semplicemente di fare una citazione, questa volta non da Schumpeter ma da John Maynard Keynes, del saggio alla fine dell'Assefer del 1926. Keynes dice che il problema è distinguere tra gli agenda e i non agenda del governo, o meglio, dei diversi livelli di governo. In situazioni di grave crisi, Gbd attraverso per esempio il tasso di disoccupazione imperante o la grande iniquità della distribuzione dei redditi, l'intervento pubblico, chiaramente non caratterizzato da fallimenti dello Stato, con politici che hanno le caratteristiche dei civil servant che aveva in testa Keynes, è fondamentale per riportare a un certo livello di sicurezza del sistema, riducendo la incertezza radicale, in un certo senso governando le aspettative del sistema. In questa fase sono dettate più che altro da convenzioni finanziarie che vengono a fissarsi senza prendere in considerazione la necessità che caratterizza il sistema da USE così ferito dai livelli di sottopulazione. In un secondo momento questo genererà anche la possibilità di far riportire la saltare concorrenza dinamica tra capitalisti seguendo le indicazioni di Schoenberg. Che poi il mio convincimento politico sia un pochino diverso da questo approccio teorico è un problema che ha una valenza nel lungo periodo. Ma concludo con una battuta. Io credo fermamente che in condizioni normali, senza forse il problema dell'uscita del capitalismo, il problema che prima o poi bisognerà pure tornare a discutere, è la lotta di classe a determinare gli stimoli adeguati per lo sviluppo economico e sociale del capitalismo stesso. Bene, ringraziamo Stefano Lucarelli, gli diamo il bocca al lupo per il suo intervento di domani a Roma con Emiliano Brancaccio. Dal Web Economy Festival di Cesena, Economia per i Gittadini, Stefano Lucarelli, alla prossima video intervista. Ciao, ciao. L'assenza di libera concorrenza nella relazione di questi servizi non eliminerebbe il fattore innovativo e soprattutto non tenderebbe a fornire servizi che non siano sufficientemente produttivi. E cosa penso a questo punto? Scusami qua, certo. Te la faccio più semplice. Almeno faccio più semplice. Ripenditela in testa. Forse è un segnale del testo che non è una domanda da fare. No, no, perché è spinosa. È spinosa. È spinosa. Ok, allora, uno, due, tre. Bene, ringraziamo Stefano Lucarelli. Gli diamo le bocca al lupo per il suo intervento di domani a Roma con Michigliano Brancaccio. Se vuoi ricordare il nome dell'evento. La voglio vedere così. Adesso no, ma la faccio.